Oh 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 oh, ma diario, oh ma ho va ho va Oh 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 oh, ma diario, oh ma ho va Ma non, ma non, ma non, ma non Ma non, ma non, ma non, ma non Navigatore? Il sommo ufficiale ci siamo persi Eh ma è colpa sua? Mia? Ma certo che è colpa sua Lei durante tutto il percorso mi ha distratto, e guardi che glutei qua, e guardi che glutei di là. Io ho detto curi, professor, curi. Mi mette in bocca cose che non ho mai detto. Vabbè, chiederemo a questi bambini qua. Ragazzi! Ragazzi! Copacabana. Copacabana. E provi con una mancetta. Ah, sì, certo. Copacabana. Copacabana. Qui c'è il braccio corto, cinque reis. Guardi come si fa. Ah, chiede, neus. Un preos dolce, una calacca, due nocciolini, non c'è neus. Do sta Copacabana, che c'avevamo fretta. Molta, molta fretta, molta fretta, molto tardi. Questi in capiscono un cazzo, eh. D'altra parte sono bambini, bambini poveri. Questi non c'hanno niente, che c'hanno? Non c'hanno le pistole, eh. Vamos, vamos. Questi sono i famosi lignos de rua. Pericolosissimi. Potevi accorgere prima? Oh, mamma mia, che fedore. Io mi rifiuto di entrare qua dentro. No, 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 no. Io non mi farò né coercere, né coattare. Prego, professore. Dopo di lei. È un gentile. Rapido. Tranca la porta. Però, professore, adesso faccia qualcosa. Chiami la polizia. E con che ci hanno fregato pure i cellulari? Vista la situazione, lo sai che quei pistoloni hanno sollecitato un certo stimolo? Se lei si volta, io approfitterei della situazione. Non si azzarti! No, 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 no. Per me, ma non sente un ezzo di sterco? No, non sento più niente, con sta puzzata è merda. Senti che c'è una cosina. Sì, buoni po? Grazie.